Buonasera amici da San Pietro vi saluta Giuseppe. Stasera come vedete faccio anca e coscio di pollo sulla reticola. L'ho messa adesso. Fra un po' lo giro e poi ci vediamo alla fine della cottura. Per adesso vi saluto. A dopo, ciao. Si gira. Grazie. Eccoci ritornati qua alla cottura del pollo sulla reticola anche e coscio di pollo. Adesso lo giriamo. Ecco qua, è cotto alla perfezione amici. Guardate che bello. Crosticina. Adesso lo impiattiamo e ce lo mangiamo. A più tardi. Ecco qua l'impiattamento. Buono. Assaggiamo. Eccolo qua. Buono. 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 Ciao a tutti amici. Buon appetito. Buona cena. Al prossimo. Buono. Buon appetit.